Buongiorno, benvenuti a questo modulo di formazione Leuve Pro College. L'argomento che vedremo oggi è il nuovo Connect ID. Il nuovo Connect ID incarna tutti i valori del marchio Leuve, la miglior qualità video, la miglior qualità audio e il miglior design. Il televisore è disponibile in 4 polliciaggi, 32, 40, 46 e 55. La cornice, larga solo un centimetro, è disponibile in due colori, bianca o nera. Ma quello che è molto particolare è che il cabinet posteriore e la griglia degli autoparlanti possono essere sostituiti e sono disponibili in sei colori, bianco, nero e argento che sono colori più classici e arancione come vediamo qui, verde o beige che sono i colori un po' più moderni. La griglia degli autoparlanti, dicevamo, è formata da un tessuto molto particolare e tecnico che esalta le qualità audio e protegge gli speaker che sono all'interno. Per ciò che riguarda la qualità video, bisogna dire che questo prodotto ha la miglior immagine che sia possibile. Un nero veramente nero, una rifinitura dei contorni eccezionali e questo danno una profondità all'immagine senza precedenti, sembra quasi di vedere il 3D senza occhiali. L'OVE Connect ID, tutti i polliciaggi sono disponibili in 200 Hz, sono full LED, LED edge, hanno il tuner satellitare e il tuner digitale terrestre. Nel modello con hard disk integrato c'è il doppio tuner, doppio tuner satellitare e doppio tuner digitale terrestre. Questo cosa consente? Di registrare una trasmissione e vedere in contemporanea un'altra. Questa è una funzione molto molto comoda. Naturalmente il televisore ha le massime funzionalità di connettività, è a bordo la LAN e la VLAN di serie. Questo consente di vedere tutti quelli che sono i dispositivi collegati in rete in casa, come per esempio un NAS, un computer, e quindi fare lo streaming dei contenuti, cioè vedere direttamente sul televisore ogni cosa che noi abbiamo nella rete domestica. Se io ho due televisori L'OVE posso fare lo streaming dei contenuti dal televisore con l'hard disk al televisore senza hard disk. Per quello che riguarda invece la qualità audio, il televisore è dotato di un sistema di altoparlanti molto potenti per un totale di 80 watt. È così composto, ci sono due speaker frontali full range, uno di qui e uno di là, e un basso con la sua cassa di risonanza, uno per parte, in totale 80 watt. Questo sistema è incredibilmente complesso, rende il suono molto potente e di grande, grande qualità. È una delle caratteristiche più importanti in generale di tutti i prodotti L'OVE, è ancora più sviluppata in questo prodotto. Per quello che riguarda le possibilità di installazione sono svariate, innumerevoli. In questo momento vediamo il table stand tableau, che è disponibile in due materiali, ceramica e legno, naturalmente entrambi fatti a mano con questo bellissimo vaso Rosenthal. Altre soluzioni di installazione da tavolo sono il table stand comfort e il table stand dynamic. Dicevamo all'inizio che è possibile cambiare il colore della cover a scelta del cliente, e per farlo il rivenditore può operare in questo modo. Per la dimostrazione abbiamo un Connet ID 40 bianco, occorre svitare semplicemente le sette viti che tengono insieme la cover posteriore, e poi sganciare la stessa cover in questa maniera. Molto semplicemente, vediamo la cover viene via, ed è possibile sostituirla. Una volta tolta la cover, potremo girare il televisore. Tolta la cover posteriore, naturalmente giriamo il televisore, e il pannello frontale, la griglia frontale che nasconde gli altoparlanti, viene tolta semplicemente facendola scorrere verso il basso, in questa maniera, molto semplicemente. Vediamo che l'occhiolino love è ancora attaccato, ci sono due semplici vite da svitare, e poi il pannello viene totalmente tolto. Si può sostituire con un nuovo colore, oppure con lo stesso colore. Per rimontarlo si fa semplicemente l'operazione inversa. Si riappoggia la griglia altoparlanti, si fa scorrere verso l'alto sulle guide, dopodiché si rimette la cover posteriore. Bene, abbiamo visto come si sostituisce la cover, e adesso parliamo di quelle che sono un po' più le applicazioni tecnologiche. Naturalmente il televisore, abbiamo detto prima che entra in rete, tramite la rete si possono fare tantissime cose. C'è un'applicazione che si chiama Assist Media per iPad e per iPhone, e consente di usare l'iPad e l'iPhone come telecomandi del televisore. È possibile dall'iPad, dall'iPhone, ma anche da altri cellulari, per esempio quelli che usano il sistema Android, trasferire foto, musica e video dal dispositivo al televisore. E viceversa, se io ho il televisore con l'hard disk, quello che è registrato sul televisore posso vederlo sull'iPhone, sull'iPad o sull'Android, scaricando naturalmente le applicazioni opportune. Bene, come conclusione possiamo veramente dire che il nuovo Love Connect ID, con tutte le sue caratteristiche audio, molto potente, video perfetto, col suo design estremamente personalizzabile, con tutte le possibilità di installazione, a partire anche dal mobile, il Love Individual Rack, con la possibilità di navigare su internet liberamente, con la predisposizione al DVB-T2, rappresenta oggi un prodotto fantastico sul mercato, senza uguali, e forse è assolutamente il miglior prodotto televisivo che sia disponibile in questo momento sul mercato. Grazie dell'attenzione.